Da un anno a questa parte non ci sentiamo né difesi né tutelati e il grido risperato che arriva da residenti di via Maiella, in particolare dai condomini della 39enne di Sulmona, che è stata ristretta per ben due volte agli arresti domiciliari per furto. Lo sfogo denuncia a un datigia arriva dalla coinquilina cardiopatica che invoca un intervento più incisivo degli organi preposti, perché dice la mia vita sta diventando un inferno. Rumori, schiavazzi notturni, un avai di gente che sta rendendo impossibile trascorrere le giornate con serenità ai condomini che più volte hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Non riesco a far passare l'idea che nessuno possa tutelarci e difenderci, interviene la settantenne che nei giorni scorsi è finita a pronto soccorso dopo l'aggressione subita dal 38enne di Raiano, il giovane che era stato ospidato dalla 39enne. Ho sentito che stavano litigando, urla e rumori continui fino a quando lui scende le scale e io, per istinto materno, ho aperto la porta. Temevo che era successo qualcosa e sono stata aggredita dentro casa mia, ma questo nessuno lo fa notare, tuona la signora, che chiede solo di essere lasciata in pace. Per le lesioni riportate dalla donna dopo l'aggressione, il 38enne di Raiano resta indagato mentre è stato condannato a sei mesi, pena sospesa, per esistenza pubblico ufficiale, dove aver patteggiato la stessa pena con il giudice nel corso del processo per direttissime.